Siamo all'inizio dell'autunno ed è il tempo della potatura di produzione del mandorlo. Di produzione perché dopo una fase di formazione che dura uno o due anni, la pianta viene semplicemente gestita. Noi facciamo degli interventi mirati una volta all'anno all'inizio dell'autunno affinché andiamo a stabilire quello che è il rapporto tra l'attività produttiva. Vediamo che in questa fase la pianta è già predisposta alla fruttificazione del 2024 con i dardi, quindi questa è l'attività produttiva. Però dobbiamo cercare di controbilangiare con un minimo di attività di rinnovo affinché la pianta possa anche recuperare quelle parti che sono esauste e quindi possa essere rinnovata. Vedremo che questa attività di rinnovo, di mantenimento è circa il 10-15% di tutta la ramificazione. Ecco, siamo qui con la Paulittis Farm, che ringrazio, e cercheremo di dare delle indicazioni su quelle che possono essere le operazioni mirate. Spesso la potatura viene intesa come un qualcosa di tagliare a prescindere. Invece no, con un minimo di ragionamento noi possiamo capire quali sono gli interventi mirati da fare. Affinché questo possa essere realizzato in modo concreto, ma soprattutto fluido, molto rapidamente, è importante che ci sia questa fase iniziale di formazione. Quindi possiamo anche un po' ripetere quali sono state le impostazioni iniziali del metodo Saragossa. Abbiamo quindi un apparato radicale che non vediamo, abbiamo un tronco che è circa 80-90 cm, che ci servirà proprio da supporto per la pinza scuotitrice. Abbiamo fatto un taglio a circa un metro, un metro e 10 e tra gli 80 cm e il metro e il metro e 10 si ripartono, si dipartono le ramificazioni principali. Ecco, l'errore che spesso vedo in giro sul vecchio sistema è che necessariamente devono essere quattro branche. No, noi dobbiamo praticamente far sì che in questa porzione si dipartano quante più branche possibili. Questo consente, con questo metodo Saragossa, di avere una pianta poco potente e molto predisposta alla fruttificazione. Quindi se qua dovessimo contare quelle che poi io chiamerò le dita, quindi le branche principali, abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e probabilmente anche otto. Ecco, non è uno scandalo questo, non è una cosa eccessiva. Grazie a questa multiripartizione di energia avremo una pianta con una spinta contenuta e quindi più predisposta alla fruttificazione. Sentivo prima il proprietario Giuseppe, quest'anno al quinto anno è riuscito a ricavare già sei chili a pianta che moltiplicato 400-500 piante sono già, diciamo, un ottimo risultato produttivo. Ecco, vediamo quali sono adesso gli interventi da fare una volta all'anno, ripeto, in questo periodo, diciamo a cavallo tra settembre e ottobre, massimo la metà di novembre, per avere un buon equilibrio tra, appunto, quello che dicevo, l'attività produttiva, ecco, vediamo che questa pianta si è riempita di dardi e l'attività di rinnovo. Ecco, facciamo un'inquadratura della pianta prima della potatura e poi la compariamo con quella, diciamo, che avremo dopo la potatura. Io dividerò gli interventi per motivi anche di comunicazione, infatti spesso noi facciamo dei corsi e arrivano dei principianti che sono poi gli allievi migliori, perché arrivano chiaramente no con dei preconcetti. Quindi, dividerò il percorso in alcune fasi, che sono palmo della mano. Perché io dico palmo della mano? Perché proprio come il palmo della mano avremo una parte libera di ramificazioni, che è una parte superiore e inferiore, e delle dita, che in questo caso, avendo un calibro ben definito, una sezione ben definita, rappresentano le cosiddette branche principali. Poi parlerò di cono di luce. Questo è molto importante perché è sì una struttura a volume, ma non è altro che il risultato di un avvolgimento di un po' di parete. Quindi questa è la parete con un destra e un sinistra, invece in questo caso avremo una parte esterna, una parete esterna e una parete interna. Quindi è importante che questo vaso sia cavo all'interno. Quindi andremo a definire il cono di luce. La terza fase è quella del semplice arrotondamento. L'obiettivo è avere rami che siano perfettamente verticali. Ecco, la verticalità dei rami la mette in evidenza questo taglio fatto nel 2022, in modo preciso, dal titolare, che ha seguito sicuramente un corso dove dalla inclinazione di questa branca, attraverso l'impatto abbiamo portato ad avere una emissione di ramificazione a frutto che, guarda caso, sono tutti verticali. Questo è fantastico perché nel momento in cui eseguiamo una raccolta con delle vibrazioni è ovvio che un ramo posto verticalmente vibrerà di più rispetto a un ramo posto in modo inclinato. Perché noi ci preoccupiamo di avere una maggiore movimentazione dei rami? Perché è vero che stiamo raccogliendo con una pinza vibratore, con un vibratore, però è anche vero che dobbiamo cercare di sollecitare la pianta il meno possibile per evitare di far danni. Tanto è vero che la raccolta con una pinza scuditrice si realizza massimo in 4, 5, 6 secondi. Non possiamo sollecitare il tronco per 20 secondi, altrimenti noi potremo provocare dei danni. Ecco perché ci interessa la verticalità dei rami che otteniamo grazie a queste interruzioni e da queste interruzioni poi si ripartono ramificazioni in verticale. Interrobbiamo e abbiamo la verticalità. Ne possiamo trovare altri. Ecco, anche questo è un bellissimo esempio. Ecco, interruzione, verticalità. Quindi avendo a disposizione, ecco qua ne abbiamo un altro molto bello, interruzione, verticalità. Qualcosa che poi nel giro di uno o due anni matura e va a fruttificare. Quindi abbiamo attività produttiva e attività di rinnovo. Perfetto, allora entriamo all'interno della pianta e passiamo alla fase operativa. Ecco, molto importante è anche servirci di strumenti che ci agevolano nella raccolta, come ad esempio nella potatura, chiedo scusa, come ad esempio le forbici elettriche. Allora, quello che è importante, dico sempre, è entrare all'interno della nostra piccola abitazione e avere la postura giusta. Mai tagliare in questo modo, cioè noi inclinati. No, dobbiamo entrare all'interno. Per cui se abbiamo difficoltà con qualche ramo, dobbiamo crearci il posto per entrare. Infatti in questo caso è già stato creato. Gli anni precedenti sono stati eliminati quei rami che creavano difficoltà all'operatore di entrare nella parte interna.